Per essere felici bisogna saper vivere il presente, quando il presente non c'è e non si è felice. Tutti sono capaci di dire, oh come ero felice quando avevo 20 anni, e poi non è vero perché non si era felice a 20 anni. Tutti sono capaci di vivere proiettandosi nel futuro. Farò, dirò. Il saggio invece è colui che realizza il presente. Il saggio è colui che quando ha sete beve, sente l'acqua fresca che gli scende per la gola e pensa, oh quanto è bello bere. Il saggio è colui che quando ha fame mangia e mentre mangia pensa, oh quanto è bello mangiare. Una bella tavolata, tutte le amiche. D'altra parte, come diceva Hegel? Come diceva? E non lo so, tutto quello diceva tante cose Hegel, ma chi si ricorda? Hegel diceva, il tempo è come l'essere, mentre è non è e mentre non è è.